Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di color correction e parliamo oggi del pannello Lumetri Color Cos'è, come funziona e come iniziare a fare color correction in Adobe Premiere Prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito completamente nuovo con i contenuti organizzati, spero, in maniera un pochettino più chiara Presto tante novità, faremo anche dei video tutorial live nei prossimi mesi Quindi seguite il sito, registratevi a questo canale YouTube e cercate la pagina Facebook Fabio Ambrosi E iscrivetevi, mettete un like per non perdere gli aggiornamenti delle prossime settimane Punto, parliamo di color correction, parliamo di Lumetri Color Cos'è il Lumetri Color? È il pannello di Adobe Premiere che ci permette di modificare i parametri della nostra color correction Come dico ormai da diverse lezioni, non facciamo un corso di color correction Ma in questi tutorial vedremo quali sono gli strumenti disponibili in Premiere E come utilizzarli per modificare i colori delle nostre immagini Intanto, come aprire il pannello Lumetri Color? Se avete eseguito il mio corso per intero sicuramente vi ricorderete quando all'inizio ho parlato degli spazi di lavoro Gli spazi di lavoro sono dei preset di pannelli che sono raggruppati per un determinato scopo Abbiamo visto che il pannello montaggio apre tutti i pannelli che servono per il nostro montaggio Quest'oggi per lavorare con la color correction abbiamo a disposizione il preset di pannelli chiamato color O meglio, colore in italiano Cliccando sul pannello colore verranno aperti tutti i pannelli O meglio, cliccando sull'area di lavoro colore Verranno aperti tutti i pannelli che vi permetteranno di gestire i valori, i colori, i parametri della vostra color correction Ma facciamo un esempio Facciamo finta che voi non volete per forza aprire il pannello O meglio, l'area di lavoro colore Ma immaginiamo che voi vogliate semplicemente aprire il pannello Lumetri Color Che è il pannello che contiene i parametri per fare color correction Come fare? Bene, se vi ricordate, sempre all'inizio di questo corso di Premiere Vi ho detto che tutti gli strumenti, tutti i pannelli di cui avete bisogno che sono presenti in Premiere Sono raggruppati nel menu finestra Cliccate, vedete qui c'è una lunga lista di pannelli che sono a vostra disposizione Individuate il pannello chiamato colore Lumetri Cliccate sul pannello, sulla voce colore Lumetri E vi verrà nuovamente aperto il pannello che sostanzialmente vi permette di fare color correction in Adobe Premiere Qualunque scelta voi abbiate fatto Io vi consiglio di utilizzare lo spazio di lavoro Perché qui vengono già aperti anche altri strumenti di cui parleremo nelle prossime lezioni Comunque, qualunque sia stata la vostra scelta per aprire il pannello Lumetri Color Che, lo ribadisco, è questo qui, controllo Lumetri È giunto ora il momento di applicare i parametri della color correction alle vostre clip Ne parleremo nel prossimo video tutorial Parleremo di come utilizzare questo strumento qui per modificare i colori della nostra immagine Quindi non mancate Iscrivetevi a questo canale per non perdere anche i prossimi tutorial www.fambiambrosi.it Per leggere l'articolo di queste video lezioni E per restare aggiornati anche sulle prossime novità Ciao al prossimo video Ciao al prossimo video